Lì praticamente hai rivisto in un attimo tutto il sacrificio, tutto quello che ti hai dato per arrivare avanti ai tuoi avversari in quella gara lì, in quel momento lì. Ciao a tutti, bentornati su Coffee Sport. Oggi siamo con Fabrizio Mori, detentore del record italiano dei 400 ostacoli. Ciao Fabrizio, intanto grazie. Grazie a te, è un piacere, buongiorno a tutti. Allora magari se hai voglia di presentarti o dire ai più giovani magari chi sei, cosa fai eccetera. Come no? Allora appunto Fabrizio Mori, atletica leggera, lavoro con la federazione di atletica appunto e la mia società sono il gruppo sportivo delle fiamme gialle. Allora adesso sono tecnico delle fiamme gialle, responsabile degli ostacoli e con la federazione invece e diciamo il tutor per quanto riguarda i giovani, sempre nella specialità dei 400 metri ostacoli. Io è dal 2002 che ho smesso di fare l'atleta, per cui adesso sono passati un po' di anni nel poter dare consigli ai giovani per ripercorrere un po' la mia strada. Giustamente direi, giustamente. Come hai iniziato sei in questo sport, nel mondo dell'atletica? Cioè hai i ricordi, i primi ricordi quali sono? I primi ricordi sono sicuramente quelli di un gran gruppo dove ti divertivi, dove era piacevole stare insieme proprio su questa pista, su questo impianto. Abbiamo iniziato a percorrere i primi passi e dalla scuola, dalla scuola è partito tutto da lì perché comunque sia c'erano i giochi della gioventù cosa che purtroppo è andata poi negli anni a mancare. È stata una fuscina molto importante per l'atletica perché regalava molti giovani. Per cui mia madre fu richiamata un po' dalla maestra di scuola perché ero troppo agitato, troppo movimentato e dissero guarda questo ragazzo non basta le ore di banco ma bisogna dargli qualcosa di più attivo. Mi portarono da quella porta lì entrammo e niente, è andata così. È stata una passione che mi ha preso proprio non solo, come ti ripeto, col gruppo che avevamo prima, ma proprio il fatto di avere sempre a 360 gradi un'attività che cambiava in continuazione. Beh, allora l'Italia deve ringraziare questa maestra che ha avuto questo lampo di genio in quel momento. Sì, 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 è stato... ma infatti poi la cosa simpatica è che comunque sia negli anni ci siamo sempre sentiti con lei, ha percorso un po' la mia attività e questa è stata simpatica. Molto bella questa cosa. E che in tutta la tua carriera ci saranno stati dei momenti più belli, dei momenti più brutti? Ce n'hai qualcuno che ti ricordi particolarmente, che dici ma guarda questo è veramente un ricordo bello oppure questo è un ricordo che non proprio bellissimo, insomma magari una roba del genere, ecco? Sì, allora in tutta la mia carriera sicuramente il ricordo più bello può essere il fatto che la mia partecipazione alla prima Olimpiade. E quindi credo che l'Olimpiadi per ogni sportivo sia un po' l'ambizione, il sogno più grande. Quindi ecco la prima convocazione all'Olimpiadi, Barcellona 92 per me è stato il sogno che si è avverato. Poi chiaramente nel mondo sportivo i momenti più brutti sono quando girando l'angolo sbagliato trovi quell'infortunio che per me si magari invece ha avuto una grande preparazione per un evento e questo infortunio magari ti mette un po' così in brutte acque. Ecco, forse l'infortunio è quello che ricordo di più, ma ricordo di più perché comunque sia anche con i giovani, con i tecnici, con la federazione ritorna un po' a galla. E il fatto di aver avuto un Sydney 2000, c'era un'Olimpiadi molto importante per me perché arrivavo da campione del mondo l'anno prima a Sevilla 99 e lì ecco dovevo dimostrare, dovevo fare e invece riuscire ad agguantare una finale e una finale da sesto, settimo posto, però chiaramente mi lasciò un po' di amaro in bocca. Però a causa di un infortunio che ti sei prolungato, quindi per un po' insomma. Sì, 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 mi sembra uno stiramento ad un soleo un mese prima di un'Olimpiade e quindi il dover preparare un'Olimpiadi con lavori alternativi come una bike, come la piscina, come, chiaro che la testa invece frullava in un'altra maniera. Sì, 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 ci sta. Ma ora che mi dici così, infatti che hai vissuto tante Olimpiadi o comunque tante gare partendo da qui, dai giovanissimi, eccetera, quando sei in uno stadio grande con il pubblico intorno te lo senti? Senti una differenza? Percepisci il tifo? Cosa ti cambia? Cosa senti? No, mi esalta tantissimo, mi esalta tantissimo, guarda, e mi hai fatto pensare ad un ragazzo che stiamo seguendo ora, che comunque sia il top in Italia, perché Alessandro Sibilio che due anni fa ha fatto a Tokyo la finale all'Olimpiadi nei 400 ostacoli. Per cui per me poter collaborare con loro è grande orgoglio. E lui, Giampaolo, l'allenatore, comunque sia mi dice sempre questo fatto che gli piace molto la rilassatezza nei momenti, comunque sia invece che loro vanno un po' in botta perché c'è tanta adrenalina. Però questo è un film che io ormai ho già visto per anni, per cui non ho problemi, capito, al dover subire la call room quando hai uno stadio pieno. Cioè, si parlava prima di Sydney e Sydney 2000 è stata la finale dove io ho visto più di 100.000 spettatori dentro uno stadio. Quindi, ripeto, io ho l'atletica importante, l'ho iniziata a fare dal 96 in poi e sono passati molti anni e questa cosa io non vedo l'ora, ecco, di poter arrivare in un ambiente dove l'adrenalina comincia a fare il suo effetto. Allora, ora invece ci siamo spostati perché siamo in pista e la pista te, insomma, diciamo che la senti bene, te la ricordi bene. La sento mia. La senti molto tua. Volevo chiederti, campione del mondo 1999 a Siviglia, mi ripercorri quella giornata? Intanto anche noi ci facciamo simbolicamente perché non possiamo mai raggiungere quel livello, però... Ma è stata una giornata fantastica, una giornata che comunque sia la sera prima un po' di turbolenza l'aveva creata e cerco di spiegare in maniera molto breve il fatto che nella semifinale c'era stata una richiesta di squalifica. Una squalifica perché? Perché negli ultimi 80 metri praticamente mi ero trovato a correre all'interno della mia corsia. Ora, l'atleta che era accanto a me, il francese Diaganà, lo avevo a due metri avanti. Io mi ero affiancato a lui e ero andato a calpestare la riga. Allora, questo e i francesi hanno cercato subito di trovare questo appiglio per farmi andare a casa un giorno. Esatto. La nostra federazione intervenì in maniera molto tempestiva e insomma, comunque sia, disse che non creavo danni a nessuno perché il mio atleta all'interno era avanti. Mi riammisero, questo però lo seppi... Quindi sei proprio stato squalificato per un breve periodo. Per un breve periodo perché comunque sia, arrivando io vedi subito il DQ... Ah, proprio subito? Subito, subito. E questo, cioè, me l'ha dispiaciuto molto perché avevo avuto una sensazione, correndo in 48 e 14 la semifinale, stavo bene, ma lo sentivo che comunque sia la condizione c'era. Però, cioè, cercai subito di arrivare alla postazione Rai, perché comunque sia loro con i replay mi davano modo di capire anche cosa era successo. E questo mi dissero, guarda Fabrizio, eccolo qua, secondo noi il danno che puoi aver creato è negli ultimi 40-50 metri. Allora io dissi, mi misi in mani ai dirigenti federali perché ho detto, Mari, loro andranno da qualche parte a cercare di fare il ricorso. Lo fecero e andò bene. Però questo io lo seppi che era mezzanotte e mezza, mezzanotte e tre quarti. E quindi ecco, fino all'ultimo ero lì in attesa di questa news. E niente, arrivò, grande notizia, la cosa buona è che il giorno dopo era un giorno di riposo, per cui io ebbi tutto il tempo per poter recuperare fisicamente e anche mentalmente. E niente, con l'allenatore del periodo, grande Roberto Frinoli, che comunque sia ha avuto anni importanti anche lui in questa disciplina, ci trovammo a ripercorrere quello che era successo in batteria in semifinale. Il giorno della finale fu un grande momento per me. Come ti dicevo prima, l'ho vissuto anche in maniera molto serena e tranquilla. Perché? Perché comunque sia volevo dare tanto di più, ma mi confrontavo sempre con me stesso. Non stavo a guardare gli americani, i francesi, gli inglesi. Io volevo discutere con me stesso. Avevo una persona accanto, appunto come Frinoli, che mi dava serenità e tranquillità. E questo ci permise cosa? Di arrivare al giorno della finale, sera, no, tarda serata, comunque erano le 21. Sì, quindi insomma a Siviglia poi si parlava anche di molto caldo. E questo fortunatamente, insomma, era un orario che ci permetteva di esprimerci al meglio. La gara è stata una gara esemplare, nel senso che io me la riguardo spesso, molto volentieri, perché appunto con i giovani della federazione, delle fiamme gialle, ripercorriamo quel momento lì. È stata una gara dove mi sono trovato a dover rincorrere gli avversari, perché io ero in corsia interna, i più forti erano davanti. Però io dissi, cioè qui qualcosa devo rischiare, qualcosa devo dare, perché comunque sia stai facendo una finale, un campionato del mondo. Questo però andò bene, perché arrivammo lì in una condizione top. E questo mi permise poi di sfruttare gli ultimi metri, fare un rush finale importante e stando attento sempre a righe, ostacoli. Sì, perché a quel punto c'era venuta tra virgolette l'ansia. Sì, ma l'ansia era peggiorata, perché durante il riscaldamento, l'approccio, quando dall'hotel comunque sia ti sposti verso il campo per iniziare la procedura del warm-up, della call room e tutto, cioè la news fu quella che i francesi avevano messo una telecamera direttamente su me, un primo piano gigante, in modo da vedere proprio... E te questa cosa la sapevi? Io questa cosa la sapevo, esatto. Allora, corsia centrale, non pestiamo le righe, gli ostacoli dentro. Cioè fu un qualcosa in più, ecco. Però ecco, fu una gara perfetta. Io mi ritrovai all'ultimo ostacolo, praticamente a questa altezza, siamo qua, con il francese, uno svizzero, un brasiliano, ma che le avevo in radar, proprio erano lì e allora la condizione, mentre corri la senti, di sì, pensiamo innanzitutto a superare l'ultima barriera. Che era quella. Che era, esatto. Una volta superata quella andai di slancio in fondo e presi tutti. E qui... E tra l'altro la fine è anche allungata proprio. Sì, 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 perché l'altri, ecco, forse, conoscendo il mio finale forte, avevano dato più nella prima parte. E questa prima parte poi però ti permette di averne meno in fondo. Io, magari mi avevano tirato, essendo in terza corsia, loro tutti avanti, mi avevano tirato fino a qua e... Cioè, ma fu un momento importante perché poi la federazione, lo stesso Roberto Frinoli che era lì con me, un titolo mondiale in una specialità, comunque una specialità di colore, perché 400 ostacoli hanno dato sempre atleti o americani o africani. Quindi aver avuto in quel momento un fulmine al ciel sereno, per me, per tutti noi, per chi mi è stato vicino, fu un grande momento. Bello. È emozionante sentirti raccontare tutta questa cosa dall'inizio, perché poi, come dici te, quella squalifica. Cioè, c'è stata anche una storia dietro che è... te l'hanno fatta sudare. Eh sì, esatto. È stata linearissima. Non è stata semplice, ma più che altro per un atleta che deve star lì e deve stare sereno, non avere pensieri, non andare a bruciare quelle energie che poi invece ti servono per un evento killer, perché rispetto per tutti, no? Il 400 ostacoli, però, è una gara che a 360 gradi devi essere completo nella resistenza, nella forza, nella velocità, nella tecnica, nella ritmica. e quindi andare a spendere delle energie, perché non so perché, dove, quando. Ecco, quello, però, fortunatamente, avevamo poi il giorno di riposo dopo le semifinali e anche se era inottata, ebbi tutto il tempo per recuperare. E quindi, all'arrivo, arrivi, vedi il cronometro, capisci di essere il campione del mondo, e cosa hai provato lì? Eh, lì, praticamente, hai rivisto in un attimo tutto il sacrificio, tutto quello che ti hai dato per arrivare avanti ai tuoi avversari in quella gara lì, in quel momento lì. Fra l'altro, il 47-72, in quel momento lì, era neppero italiano, world leader, perché nessuno aveva corso con quel crono lì, e, insomma, fu grande soddisfazione, perché rivedi ripagato tutto quello che hai messo nel cassetto, e magari dirai, un giorno lo aprirò, questo cassetto. E noi poi ci ricordiamo quel famoso cappello, che è storia, no? Quella è storia. Quello è molto divertente, perché c'erano, mi ricordo, dei ragazzi siciliani che venivano a tutti gli eventi, campionati europei, campionati mondiali, olimpiadi, e li avevo proprio di fronte a me. Dopo l'arrivo, nella zona comunque sia, dove c'è la stampa, dove ci sono tutti, vedi questo cappello, questi ragazzi esultare, e non so perché, capito, arrivai lì da loro, perché poi, ecco, cercavano di sistemarti per le foto, e uno di loro mi dette il cappello, me lo mise, ci fece anche il giro, e è rimasta un po' sì. E lì è rimasta proprio iconica, eh? Sì, perché poi negli anni poi dopo, vedi anche nel calcio, un materazzi si mise il cappello, un gigibilisco nell'atletica, quando ha vinto il mondiale a Parigi. Hai lanciato questa moda poi, nel corso degli anni. Eh sì. Bene, noi siamo arrivati, ci abbiamo messo molto più tempo di quello che ci hai messo te, molto più tempo, però insomma è stato molto emozionante questo racconto da parte tua. Perfetto, sì, 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 perfetto, no? Grandi momenti. Partenza subito valida, davanti a Mori c'è Pavel Januszewski, più avanti ancora c'è il favorito Stefan Diaganà, Mori solito partire non velocissimo, non brillantissimo il passaggio del suo primo ostacolo, resta un po' indietro, ma tranquilli per il suo finale, c'è ancora spazio, c'è Diaganà, Diaganà molto bene, va quasi a prendere Joy Woody, poi Pavel Januszewski, Mori in lizza, all'interno si batte bene Torrens Zellner, ecco l'azione di Mori. Diaganà, Januszewski, Mori con all'interno Zellner, in lizza per le medaglie, il Livornese, che arriva bene sul terzo-ultimo ostacolo, penultimo con Mori in rimonta, Stefan Diaganà, Pavel Januszewski, c'è Mori, c'è Mori, c'è Fabrizio Mori, va Fabrizio Mori, va Fabrizio Mori, Fabrizio Mori, titolo mondiale, un italiano al titolo mondiale, record italiano, italiano strepitoso, dove non si sperava nemmeno, un italiano, io, sono io il campione del mondo, impassibile, Fabrizio Mori, un titolo mondiale, un segno del destino, diceva Sandro Fioravanti, io, sono io il campione del mondo. Ora siamo a sedere invece sugli spalti, dove tanti persone, tanti tifosi, ti hanno guardato, il record italiano, che è avvenuto, non nell'occasione di Siviglia, cioè, è avvenuto a Siviglia 99, il primo, giusto? Esatto. Però poi lo hai abbattuto. Sì, due anni dopo, due anni dopo, sempre in un campionato del mondo, vedi, forse io, negli anni dispari, erano gli anni che rendevo di più, e gli anni pari, che c'erano le Olimpiadi, erano quelli un po' peggio. 2001, a Edmonton, trovai un'altra gara importante, trovai però, tra me e quello che poteva essere l'oro, che trovai invece a Siviglia, un atleta formidabile, perché il domenicano Felix Sanchez riuscì a vincere, però da lì poi ha siglato una serie di risultati pazzeschi, perché ha vinto tre Olimpiadi, quattro mondiali, per cui trovai un big dell'atletica in Canada. Corsi in 47 e 54, che è l'attuale record italiano, in una gara anche quella pazzesca, perché comunque sia, sapevo che questi atleti erano più forti di me, perché facevo un paragone sempre sul 400 metri, senza gli ostacoli, e questi atleti avevano dei crono molto più forti. Però io dissi che comunque sia, 10 ostacoli erano quelli che proprio per me, con gli altri, potevano fare la differenza. Questo 47 e 54 mi portò l'argento, terzo fu un giapponese che stabilì il record asiatico, e niente, tuttora ancora resiste. Quindi insomma, una gara con un record, e però tra virgolette un finale non proprio leggermente amaro, perché la medaglia d'oro non è arrivata. Sì. Sì, 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 però ecco, forse il fatto di aver abbattuto un po' per due decimi il record italiano, quello ecco, magari mi portai a casa un gran risultato. E poi tuttora rimane quello, quindi continuiamo a essere... A tenercelo stretto. Decisamente, sì, sì. E invece ti chiedo, proprio in funzione di questo, hai visto negli ultimi anni le tecnologie sono cambiate, scarpe, piste, eccetera. Secondo te, te, ai tempi, con una roba così, saresti riuscito a battere ancora questo record? Ma, allora, ne parliamo spesso, perché comunque sia un argomento molto attuale, questo qui della tecnologia, il sopravvento che ha dato, e che comunque sia mi trova anche favorevole, nel senso, è giusto che comunque sia di anno in anno venga sempre dato quel qualcosa in più. Forse ecco, quello che spaventa è un po' uno scossone in questi risultati che vengono abbattuti, ecco, forse nelle gare di mezzo fondo la cosa è stata ancora più concreta. Però, credo che questo faccia parte un po' del mercato, del mercato perché guardiamo come magari anche in altri sport, le moto di 50 anni fa, le auto di 40 anni fa rispetto ad adesso cosa sono. Per cui, investire su scarpe o manti di gomma molto prestativi, questo ha fatto sì che tanti risultati venissero fuori. Io, si scherza con i colleghi e magari qualcuno mi dice che con le scarpe oppure con atleti anche che seguo di adesso, forse io, ecco, il muro anche del 47 sarei riuscito a batterlo e questo però ti permette di sognare e basta. Però, è un bel sogno. Sicuramente, sicuramente. Invece ti chiedo le ultime due cose. Ora alleni il tuo figlio anche, giusto? Sì, anche, sì, sì. Com'è allenare il tuo figlio? Che sensazioni provi nei confronti suoi? Ma, nei confronti suoi provo una sensazione comunque sia di poter trasmettere il fatto di essere molto attaccato al voler esprimermi al top. Gabriele, comunque sia, è un atleta che ha delle qualità perché, comunque sia, anche quando giocava al calcio lo dimostrava. L'atletica, ora sono un po' di anni che la fa e purtroppo, ecco, qualche acciacchetto muscolare non gli dà continuità nel lavoro. Però io, da padre, cerco di non creare una pressione perché, comunque, sia inevitabile il mio ricordo può essere, no, il fantasma che sta dietro a qualunque situazione sia in allenamento che in gara. Però io cerco di poter lavorare su un atleta e cercare di fargli esprimere il potenziale che ha lui. Per cui, ecco, non discutiamo mai su situazioni tecniche ma cerchiamo soltanto di programmare un lavoro e cercare di portarlo il più possibile al termine. Gabriele fa velocità però, di questa differenza? 100 metri, 4%, hanno avuto risultati anche importanti sia indoor che outdoor. Però poi vedi, magari, il problemino muscolare è quello che poi magari ti rallenta certe situazioni. Però, ti ripeto, una situazione molto serena, molto tranquilla e cercare, ecco, di sviluppare un atleta anche perché ora per loro, per i giovani di oggi è semplice è molto più facile andare su internet e vedere situazioni pazzesche anche dall'altra parte del mondo. Per cui noi vogliamo cercare di lavorare con continuità ma con estrema serenità. Bene, e ti faccio un'ultimissima domanda che è forse la domanda più grossa ma quindi adesso e nella tua carriera e nella tua vita. Cosa rappresenta per te l'atletica? Beh, l'atletica l'atletica è la mia famiglia l'atletica è quell'aula a cielo aperto che mi ha dato tanto è un qualcosa che comunque sia mi ha fatto vedere conoscere altri mondi altri colori altri suoni altri odori e questo credo che comunque sia e sia fondamentale per la crescita di una persona da giovane da uomo da atleta da allenatore e questo credo che ti insegni molto e cerco ora di trasmetterlo ai ragazzi che seguo. Benissimo, io ti ringrazio infinitamente di aver accettato con noi l'intervista e noi ci vediamo nella prossima Pausa Caffè. Ciao a tutti! Ciao!